Ho parlato con Marcus e mi ha parlato molto del club della città, sono molto contento e ho visto, è stato gentilissimo perché mi ha mandato un video dove mi spiegava tutto quanto e ho visto i fan che sono la cosa che mi ha colpito di più. So che questo è un'importante perché è il primo anno della Champions League e sono contento di essere qui. Quali tipo di giocatore abbiamo con Luca Pellegrini? È un giocatore che sicuramente dà tutto per la maglia e dà tutto in campo. Sono venuto qui per mettermi a disposizione del mister e per aiutare LineTrack a fare una stagione immemorabile. Io posso in der linken seite in beide posizioni, sia la offensiva sia la defensa. in delle posizioni, è schnell, ha una buona flanche, ha una buona standard, quindi ci aiuta e ci aiuta un'altra qualità. Sono molto felice e molto contento, per me è una nuova esperienza come hai detto tu e spero che la cosa che non mi manchi sia il cibo. No a parte di scherzi, mi sono trovato subito bene qui e penso che sia un ambiente molto accogliente, quindi spero e credo che non mi mancherà nulla. Io credo di essere una persona dedicata al lavoro, però sempre col sorriso e sempre felice nel aiutare gli altri e cercare di trovare una strada comune per poter arrivare ai nostri obiettivi in generale, non solo in campo ma anche nella vita. Come si arriva giù i su Filippo Cossic? Qui è spazno con i su Filippo Cossic? La Filippo Cossic come in den vergleichen con Filippo Cossic, come in den final of Grazie a tutti.